In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Sielo dato Gesù Cristo. Maria Sede Sapientiae, ora Pronobis. Carissimi fedeli, commentiamo il Vangelo di Domenica prossima, che è la Domenica dopo l'Ascensione. Il brano è quello del Vangelo di Giovanni, dal capitolo 15, versetto 26, al capitolo 16, versetto 4. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli, quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che dal Padre procede, Egli mi darà testimonianza. Voi stessi mi siete testimoni, perché siete fin dal principio con me. Vi ho detto queste cose perché non vi scandalizziate. Vi scaceranno dalle sinagoge. Anzi, viene l'ora che chiunque vi uccide crederà di rendere omaggio a Dio. E vi faranno questo perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate che io ve l'ho detto. Ecco, carissimi fedeli, in questo Vangelo è contenuta la promessa della discesa dello Spirito Santo. E' molto appropriato per il tempo che stiamo vivendo, cioè la novena, la preparazione alla Pentecoste. Il Vangelo ci ricorda questa promessa che Gesù ha fatto ripetutamente agli Apostoli, già dall'ultima cena sicuramente in modo chiaro, chiamando lo Spirito Santo con il nome di Paraclito. Il termine Paraclito è un termine greco che viene mantenuto così com'è anche nel testo originale della Vulgata Latina, Paraclito. Paraclito è un termine tecnico che riguarda l'ambito giuridico. Si intende nei processi colui che svolge il ruolo di avvocato difensore. Ma il Paraclito, con la lettera maiuscola, è l'avvocato difensore per eccellenza, colui che vince tutte le cause. Perché chi è che ci accusa? Ci accusa il mondo, il mondo che non conosce Gesù Cristo, non tollera i veri cristiani. Lo dice il Vangelo stesso nella seconda parte. E quindi il mondo ci accusa di tante cose negative. Ci accusa il diavolo, Satana, che è chiamato anche l'accusatore. E' uno dei nomi di Satana. Ci accusa nelle tentazioni, ci accusa insinuando in noi il dubbio sulle realtà di fede, su noi stessi, sulla bontà del nostro cammino. Il cristiano nella sua vita è continuamente accusato da Satana, dal mondo, in modo particolare. Ebbene lo Spirito Santo ci dà quel coraggio di sostenere tutte le battaglie e tutte le accuse che provengono dall'esterno. A volte siamo noi stessi, con eccessivi sensi di colpa oppure eccessivi dubbi, mettiamo in difficoltà il nostro cammino. Quindi gli accusatori possono essere tre. In modo particolare Satana. Il mondo esterno, a volte noi stessi, quando camminiamo e amplifichiamo il dubbio che abbiamo sul nostro cammino di fede. Quindi Gesù promette questo paraclito, questo avvocato difensore, che significa anche parola, che significa anche consolatore. In effetti, in una causa difficile in tribunale, quando si presenta un buon avvocato difensore, è una grande consolazione. Si tira un respiro di sollievo. È un sollievo sapere che abbiamo dalla nostra parte niente meno che la terza persona della Santissima Trinità. Senza questo consolatore non è possibile pretendere di vincere la battaglia contro questi nemici che il cristiano ha per costituzione stessa. Perché il messaggio cristiano è diverso da quello del mondo. Il mondo non lo può comprendere. Ci vuole un dono speciale per camminare sulla strada di Cristo. Voi stessi, dice, lo chiama anche spirito di verità. Ecco, l'altro termine è lo spirito di verità. Paraclito, quindi difensore, consolatore, ma anche spirito di verità. Io vi manderò dal Padre lo spirito di verità che dal Padre procede. Quando uno ha la verità ben chiara nella propria coscienza, ha veramente poggia la sua vita su una roccia che non può essere distrutta. È una persona tutta ad un pezzo, perché sa di confidare in qualcosa di vero, in quella verità che ha preso dimora nella sua coscienza, nel suo cuore, nella sua mente. Voi stessi mi siete testimoni. Ecco, non ci sarà soltanto lo spirito ad aiutarvi ad essere miei testimoni. Questa è la cosa più importante, perché se non siete animati dallo Spirito Santo, andate poco lontano. Ma ci sarà anche il fatto che voi, dice, siete stati con me fin dal principio. Cioè, avete condiviso con me questi tre anni di vita pubblica. Sta parlando agli Apostoli, che lui ha scelto tre anni prima. Avete vissuto con me tante esperienze. Avete ascoltato i miei insegnamenti. Avete visto i miei esempi, eccetera. Quindi, questo fatto di essere stati con me per tre anni, vi aiuterà nel dare testimonianza. Lo Spirito che è in voi, più l'esperienza che avete fatto con me. Non potrete negarla. Sarà nella vostra mente, sarà nella vostra memoria. E non potrete dire che sono cose false. Voi stessi sarete testimoni in questo modo. E poi li prepara alle difficoltà. Vi scacceranno dalle sinagoge. Ecco, la prima difficoltà che i cristiani incontrano nel mondo giudaico, in Palestina, già da subito, diciamo così, gli Apostoli trovano difficoltà con le autorità religiose che avevano mandato a morte Gesù. Infatti, gli Apostoli vengono catturati, vengono mandati in prigione, vengono anche fustigati. San Pietro stesso finisce in prigione. Ecco, e San Giacomo, il minore, viene ucciso. È il primo Apostolo martire, San Giacomo. Il primo martire di tutti, invece, è Santo Stefano. Già dai primi anni, le autorità giudaiche cominciarono a cacciare dalle sinagoge i cristiani. Notavano che c'era una grande differenza tra loro e i cristiani. Ecco, i seguaci di Cristo. Del resto, già Gesù stesso li aveva messi in guardia. Lasciateli, riferendosi proprio ai farisei, lasciateli, sono ciechi e guide di ciechi. Naturalmente, i cristiani volevano continuare ad andare al Tempio, volevano continuare anche a frequentare le sinagoge. Perché no? C'erano sempre andati. Dio aveva parlato in quei luoghi, ma dovettero rendersi conto che erano odiati da quelle persone. E quei luoghi non erano più abitati dalla verità. La verità in quei luoghi non era onorata, non era rispettata. Poi Dio mandò un segno chiaro quando permise la distruzione del Tempio, nel 70 dopo Cristo. A quel punto non sarà più possibile per i cristiani neppure frequentarlo. Certo, loro erano scrupolosi. Come sono scrupolosi tanti? Tanti cattolici al giorno d'oggi che dicono ma come lasciare quelle strutture, lasciare la Chiesa, che poi non è più Chiesa, perché la Chiesa è dove c'è il fondamento di Pietro, ma quello non è Pietro, è un finto Pietro. Ma i cristiani per scrupolo personale fanno fatica, come i primi cristiani. Vi scaceranno dalle sinagoge, disse Gesù, lasciateli, sono ciechi e guideri ciechi. Ci misero un po' a capirlo, però a un certo punto dovettero rassegnarsi che il cristianesimo vero è un'altra cosa rispetto al giudaismo. Così come noi dovremmo capire che il cattolicesimo vero è tutt'altra cosa dalla religione mondiale che si vuole costruire nelle Chiese, in quelli che sono stati i luoghi del cattolicesimo. Eppure dovremmo capirlo e venire fuori. Lasciamogli le strutture e prendiamoci la fede, manteniamo la fede. Quella è la cosa più importante. Vi scaceranno dalle sinagoge, anzi viene l'ora che chiunque vi uccide crederà di rendere omaggio a Dio. Veramente, cari fratelli, da quella parte la gerarchia cosiddetta cattolica non tollera più il vero cattolicesimo, non tollera più il cattolicesimo radicato sulla tradizione. Ecco, cosa credete che questa manipolazione della liturgia sia giustificata? Prendere Gesù con i guanti, presentarsi all'altare con la mascherina, fare tutte quelle cose per cui una persona entra in chiesa già spaventata e deve stare attento. Non c'è lo spazio per la preghiera. Per mettersi in ginocchio non si può. Non si può dire amen. Capite? Tutti i gesti proprio tipici della devozione e dell'amore cristiano vengono impediti. Ma come mai questo? È giustificato dal virus? No, carissimi fratelli, qui siamo ben oltre. Siamo ben oltre. Dobbiamo dire che la massoneria ecclesiastica, perché è penetrata all'interno della Chiesa, ha ottenuto il suo più grande traguardo. Andrà oltre, cioè la cancellazione, e questo è quello che vogliono veramente arrivare ad ottenere, la cancellazione delle apparenze stesse del culto cattolico. In tutti i modi, cancellarlo perché deve trionfare questa nuova religione, molto simile alla protestante, ma talmente larga, che accoglierà tutte le espressioni di culto della Terra, per adorare chi? Per adorare Satana. Noi non vogliamo più avere a che fare con quella gente. Eh no. Per salvare le apparenze a tutti i costi, finiamo per entrare in quei luoghi e avere comunione con quelle persone, con quella gerarchia, con quel falso fondamento, che non è più Pietro, ma è l'emissario di Satana? Ora, pensiamoci bene, certo, noi vediamo nell'immediato futuro una intolleranza, c'è già questa intolleranza, verso il culto cattolico, che queste parole del Signore ci riguarderanno in prima persona. Dobbiamo essere forti, forti nello Spirito Santo, la preghiera allo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, rendici forti nella fede. La tua testimonianza è nei nostri cuori, fa che diamo una coraggiosa testimonianza. e non ci imbastardiamo con i compromessi. Noi apparteniamo a Gesù Cristo e Gesù Cristo è ovunque, là dove c'è un sacerdote, non importa se è in una chiesa che ormai sono occupate da questa religione mondiale che sta avanzando, eccetera. Quindi, carissimi fratelli, il vero cattolicesimo, la vera fede, cresce nella persecuzione. Nei luoghi dove c'è una religiosità tranquilla, come è stato da noi fino ad oggi, ecco, la fede langue, perché si nasconde con le cose del mondo, perché abbraccia le filosofie del mondo. laddove invece c'è persecuzione, la fede diventa robusta, produce santi, produce martiri e diventa feconda di altri cristiani. Direi prepariamoci, perché le premesse sono quelle anche per noi in Italia. Si è approfittato di questo virus, non so che, per imporre una dittatura non solo sociale, ma anche religiosa. E devo dire che qui non è soltanto lo Stato, anzi, c'è l'avvallo, se non forse di più, della cosiddetta C.E.I. non aggiungo altro, ma questa è la realtà che è sotto i nostri occhi. L'importante è avere lo Spirito Santo, cari fratelli, testimoniare Gesù in ogni occasione, facile o difficile, il paraclito, il consolatore, l'avvocato difensore, con la lettera maiuscola che vince tutte le cause. Accettiamo questa sfida, mettiamoci veramente in assetto di battaglia, di guerra. La guerra la conduce lo Spirito Santo, la conducono gli angeli, la conducono i santi con noi. non siamo abbandonati, non siete orfani, io sarò con voi. Sialo dato a Gesù Cristo. In nome dei Patris, et Fili, e Spiritus Santi. Amen.